Il sindaco Adamo Coppola ha revocato le deleghe di assessore e vice sindaco alla dottoressa Elvira Serra. Tutto sarebbe scaturito dalla richiesta della dottoressa Serra di rettificare la delibera dello scorso 25 ottobre 2018, che prevedeva azioni a sostegno dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per il mantenimento della rete cardiologica. Secondo la Serra non avrebbe dato parere favorevole alla delibera di giunta e per questo motivo ne chiedeva la rettifica protocollando una richiesta al comune. Immediata però la risposta del primo cittadino Coppola, che sconcertato per quanto accaduto afferma da qualche tempo la fiducia, che è alla base del ruolo assessoriale da me affidato alla dottoressa Serra, nel giugno 2018 è venuta meno. Nella stessa avevo riposto grandi aspettative e lo dimostra il fatto che, nonostante fosse al primo impegno amministrativo, era stata destinataria del massimo ruolo possibile, quello di vice sindaco, in aggiunta a quello di assessore. Le affermazioni intollerabili degli ultimi giorni e delle ultime ore che gettano ombre in modo assolutamente pretestuoso e ingiustificato sull'operato della squadra di governo cittadino che io rappresento, ha reso inevitabile e non più prorogabile la decisione di revocarle le deleghe. Molto probabilmente lei aspira ad altri progetti politici, condizione che avremo modo di verificare nei prossimi mesi, aggiunge Coppola. Di fatto lei stessa si era allontanata dalla vita politica attiva presso il municipio, rimanendo oltremodo attiva invece in altri contesti. A lei vanno in ogni modo i migliori auguri di un ottimo futuro personale e professionale. Il nuovo assessore è Maria Giovanna D'Arienzo, mentre la carica di vice sindaco è stata assegnata all'assessore Eugenio Benevento. In consiglio comunale entra invece già Luigi Verrone, in quota PD, che va a coprire il posto lasciato vacante dalla dottoressa D'Arienzo.